Carta Nuovi Nati, un'iniziativa del Comune di Arcola dedicata alle famiglie che hanno avuto figli. Sì, dopo un aiuto di queste settimane dal punto di vista del Comune con due bandi, uno rivolto ai contributi affitti e l'altro rivolto ai buoni spesa, in tempo utile per concludere l'anno con un aiuto in più ovviamente per le persone in stato di bisogno e di vera e reale necessità, l'amministrazione comunale ha proposto per le famiglie che hanno avuto la gioia nel 2020 di avere un bimbo o una bimba, un'iniziativa, un regalo in vista del Natale. Si tratta di una carta auguri nuovi nati che verrà consegnata a più di 50 famiglie che nel 2020 hanno avuto un bimbo o una bimba residenti nel Comune di Arcola una carta auguri dal valore di 150 euro con la possibilità di spenderla entro il 28 di febbraio nelle tre farmacie comunali, nei negozi per bambini del Comune di Arcola e sarà possibile riceverla a partire dal 15 di dicembre, da lunedì al sabato alle 9 alle 12 presso la nostra biblioteca di Piazza 2 Giugno. Sarà possibile recarsi presso la nostra biblioteca con la carta d'identità e il certificato di nascita del bimbo o della bimba per ricevere questa carta auguri. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale per andare incontro alle famiglie del nostro territorio nella speranza che davvero possa essere un segnale di rinascita in vista del prossimo anno e di lasciarsi alle spalle il prima possibile questo 2020 con tante cose negative che ci hanno accompagnato.